Questa sperimentazione con scienza non si aspetta chi è più lento, quelli che sono veloci corrono e quelli che sono lenti qualche fortuna si può ricevere qualche aiuto, ma è una cosa perché l'affare obbedisce a motivazione, perché sviluppa questo qui? Ci sono motivi economici, c'è qualcuno che viene e dice io cerco un prodotto che mi può aiutare a fare tale, 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 tale cosa e quindi si mette proprio a realizzare questo, ok? Per poter soddisfare un po' il progetto, eccetera, quindi c'è un po' di commercio, c'è un po' di progetto, quindi si mette due cose, tecnologia e guadagno, quando due sono messe insieme, tra volte è un po' così, ma la divide c'è, Nord e Sud è questa intelligenza artificiale, l'unica cosa che può aiutare il Sud è che questa intelligenza artificiale si fa semplicemente quando uno ha un computer a sua disposizione e sa programmare, quindi c'è un device sì, ma c'è un device che ognuno può portare in qualunque direzione che vuole.